Come prima domanda vorremmo sapere qualcosa di lei e del suo percorso sia di studi che artistico. Come prima domanda vorremmo sapere qualcosa di lei e del suo percorso sia di studi che artistico. In 2010, in Nalca, l'Alexander Nikolaevich Sokurov ha creato un'attività con un'attività che in Europa e in Russia non lo conoscevano a Cava. Non lo conoscevano, come abbiamo interagione con la famiglia, come vive la gente. E ci ho spostato a scopere non rilegionali, non ne lo scevano, non ne lo scevano, non ne lo scevano, non lo scevano, ma solo a città in famiglia, come nella Cava. e in questo caso, in questo caso, a cui accade, ci sono un'occasione. E noi ci sono 5 anni, la nostra professoressa è da 12 persone, e già un po' sottolinei un po' metri. Quindi, l'Alexander Nicolaevich ha una cosa che voglia di aiutare con tutti i debiutti. Nel 2010 è stato un'analista di Alessandro Nicolaevich Sakurov ha aperto una scuola di cinema con l'obiettivo principale quello di svelare, di parlare del Caucaso ma soprattutto per quanto riguarda i rapporti con la famiglia, dimostrare quindi come vive la gente, la gente semplice e rapporti all'interno delle famiglie nel Caucaso e quindi non affrontare temi religiosi, non affrontare temi riguardanti la violenza, il terrore ma al centro l'amore per la famiglia. Questa scuola ha una durata di 5 anni, eravamo un gruppo di 12 studenti 4 di noi hanno già girato un lungometraggio e l'obiettivo di Aleksandr Nikolayevich Sakurov è proprio quello di sostenerci nella realizzazione dei nostri film debutto. Siamo molto curiosi, cosa si studia, quali materie si studia in questa scuola di cinema che dura ben 5 anni? Sì. 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 uno shock e poi passare al sonoro. Ma uno degli obiettivi principali di Aleksandr Nikolaevich Sakurov è stato quello di innalzare il nostro livello di formazione. Nel Caucaso non c'è quasi niente, il nostro livello era estremamente basso, quindi ha dato molta importanza alla letteratura, tanto quanto al cinema, alla storia del cinema e alla storia dell'arte. Abbiamo poi avuto corsi riguardanti più il discorso scenico, lezioni pratiche, anche con diversi operatori che di volta in volta sono venuti da noi con masterclass. Ma sicuramente importante, l'obiettivo principale era quello di fare di noi delle persone con un livello culturale molto alto e il più possibile completo dal punto di vista umanistico.